Dunque, cari amici, io sono qua adesso con questa telecamera a inquadrarvi tutti quanti perché voglio che voi facciate un augurio di buon Natale fortissimo e sentito a tanta gente che non è qua con noi adesso e che sono i ragazzi che stanno in una favela di Rio de Janeiro con i quali abbiamo iniziato un percorso di amicizia insieme e quindi volevo che faceste un augurio di buon Natale a tutti loro perché sono tanti operatori musicali e tanta gente che sta cercando di fare attraverso la musica un lavoro molto bello e molto importante quindi ce li teniamo nel cuore così come volevo che voi faceste un augurio sentito e importante a tutti gli allievi del CPM che sono passati da qua in questi 25 anni di lavoro. Per cui con un bel e sentito urlo insieme alzando tutti le braccia auguriamo tutti Buon Natale! Sarà sempre la musica che ci salverà! Buon Natale! Buon Natale!